E' andata in scena ieri sera per le vie del centro storico di Santa Maria del Cedro, la Passione Vivente di Cristo. Una rappresentazione sentita e partecipata a degli ultimi momenti che hanno scandito la vita terrena di Cristo, dall'ultima cena con gli apostoli alla preiera nell'Orto degli Ulivi, per poi intraprendere il cammino della Via Crucis verso la Crucifissione. La rappresentazione religiosa alla sua prima edizione è stata organizzata dalla società sportiva OSD Santa Maria del Cedro ed alcuni componenti del comitato feste della parrocchia Nostra Signora del Cedro. L'idea è nata successivamente al Presepe Vivente. Abbiamo visto che era un avvenimento buono per tutto il paese e abbiamo pensato di fare anche la Passione Vivente. Con la Passione Vivente abbiamo coinvolto circa un centinaio di persone. Ci sono molti, ma molti giovani. Ci sono i giovani dell'associazione sportiva e c'è gente comune che ha voluto partecipare. Noi abbiamo aperto a tutti le iscrizioni, abbiamo accettato tutte le persone che erano interessate e volevano partecipare a questa manifestazione. Devo ringraziare veramente tutti dell'impegno e della bondà che hanno avuto proprio per poter portare avanti questa manifestazione. La rivocazione della Passione di Cristo fedele ai racconti del Vangelo è rappresentato per la comunità di Santa Maria del Cedro che con tutta la Chiesa cristiana si appresta a vivere la Settimana Santa, un momento intenso di spiritualità e preghiera. Il messaggio che vogliamo dare è un messaggio di pace. Vogliamo rappresentare ciò che ha vissuto Cristo e lo vogliamo portare per le vie del nostro paese in modo che in questo momento Santa Maria diventa Gerusalemme e Golgotha nello stesso tempo e contemporaneamente con tutti i personaggi riviviamo il grande messaggio di pace e di amore che ci ha dato il Signore.